Ciao a tutti, questo è Surfacamon e domani 19 aprile, cioè dopo la mezzanotte, uscirà il mio primo disco ufficiale, Gabriele. È composto da 12 tracce, tutte quante prodotte da Erso, e se vi è piaciuta la mia storia, vi dovrebbero piacere anche tutte le altre. È la prima volta, voi raga lo sapete che ho regalato tutti i miei dischi, tutti i miei lavori? È la prima volta che mettiamo un disco su iTunes, quindi a pagamento a soli 5,99€. Quindi vi dico, raga, supportate, non lo scaricate legalmente, perché non è tanto per il guadagno che si ricava da iTunes, ma proprio per la soddisfazione di essere ripagati di tanto lavoro durante questi mesi. Quindi raga, oh, rimanete svegli dopo la mezzanotte su Surfacamon, Gabriele e su iTunes. Thanks a tutti per il supporto. Ciao!